Per inserire e gestire una mappa all'interno del tuo sito, accedi a Supersite 10. Clicca l'icona Aggiungi una sezione qui, presente sul bordo superiore ed inferiore di una sezione già inserita, in modo da scegliere la posizione che si intende assegnare all'elemento. Seleziona la voce Contatto dall'elenco degli elementi a sinistra. Scegli la combinazione più adatta alle tue necessità. La mappa è così inserita all'interno della pagina web. Per configurare o modificare la mappa è necessario cliccarci sopra. Nella nuova schermata che si apre è possibile specificare l'indirizzo da visualizzare, lo zoom, l'altezza della mappa. Una volta ultimate le modifiche, clicca Salva per renderle effettive.